Ciao a tutti e benvenuti alla rubrica di Si parte con Erika, tre consigli di viaggio in un minuto. Oggi vi parlerò di tre luoghi che ho scritto anche nel mio libro. Si parte con Erika, 59 più una esperienze e idee di viaggio. Lo trovate sul sito giaconeeditore.com e in alcune librerie in Italia. Facciamo un piccolo gioco, vediamo dove andiamo. Eccoci qua, in Liguria. E allora vi do tre consigli. Il primo, vi consiglio di andare a scoprire Camogli, un luogo che potete vedere non solo d'estate ma anche d'inverno perché è particolarmente suggestivo con le sue bellissime case colorate. Un luogo dove potete assaggiare una tipicità da provare sicuramente che sono i Camogliesi. E poi andiamo a Porto Venere. Qui da vedere sicuramente c'è la chiesa di San Pietro, una località molto particolare nel golfo dei Poeti, il golfo di La Spezia. E qui invece potete assaggiare la farinata. Terzo consiglio, andiamo alle 5 terre, 5 borghi, uno più bello dell'altro. Sicuramente da vivere in estate, anche se forse in estate le 5 terre sono un po' affollate o magari in un bel weekend di primavera. Lì potete assaggiare lo sciacchietà. Questi erano i tre consigli di oggi. Voi continuate a seguirmi sui social e iscrivetevi al canale YouTube di Si parte con Erika e continuate a viaggiare con me.